Nella Basilica di Santa Chiara c'è una carrellata di figure di grandi pizzaioli della cultura della pizza, aggiungerei, anche se io ero solo un amante della pizza, che purtroppo lo devo dire, e questa carrellata di pizzaioli della cultura della pizza napoletana stanno qui, attorno a cosa? Attorno al loro presepe, infatti l'Associazione dell'Arte dei Pizzaioli ha realizzato questo presepe secondo i canoni della tradizione, ma utilizzando anche il materiale tipico dei pizzaioli, ovvero l'acqua e la farina. La forma circolare ha un diametro di circa 3 metri e il richiamo a cono, vuole ricordare il cono del Vesuvio, la scena centrale, quella della natività, ai pastori classici della tradizione, quindi in terracotta e in vesti pregiate, mentre le coperture dello scoglio e i personaggi della vita profana, cioè della vita quotidiana, aggiungo, sono invece fatti con pasta di pizza, trattata poi naturalmente con antiparassitario, cotta, modellata e dipinta, o meglio, prima modellata, poi cotta e poi dipinta, e come vedete il risultato è veramente un prezioso oggetto di due scuole artigiane note al mondo. Non sono le uniche della tradizione napoletana a fare bella questa città, ma sono sicuramente tra le più famose. La pizza è naturalmente, o presepa, che in questo caso, se a qualcuno non piace, io posso solamente dirti che il 22 dicembre la RAI ripropone il Natale in casa Copiello, almeno quello consiglio di vederlo. E chiudo con questo ingrandimento sulla Sacra Famiglia, che è uno spettacolo.